Il Piano Neve è predisposto, in vista dell'allerta meteo, una riunione preventiva per evitare problemi di sovrapposizione, per evitare anche situazioni di difficoltà come quelle dell'anno scorso a livello di organizzazione. Sì, appunto le previsioni dicono che nei prossimi giorni ci saranno queste condizioni meteo molto avverse, con nevicate anche a bassa quota. Quindi noi come Comune ci siamo organizzati con le solite ditte che abbiamo, rinforzando ulteriormente il Piano. Cosa buona ha fatto il Presidente della Provincia a convocare tutti i sindaci appunto per fare la concertazione, perché molte volte le strade comunali interferiscono con quelle provinciali, quindi per conoscere bene le varie competenze sul territorio. Quindi una riunione sicuramente molto positiva. Tra l'altro io domani ho un'altra riunione al Comune di Cambio, appunto ho convocato nuovamente tutte le ditte per fare il punto della situazione e quindi organizzare il tutto in modo da essere pronti per questa perturbazione che sta per arrivare. Che cosa? Quali mezzi avete a disposizione? Noi logicamente abbiamo dei mezzi nostri proprio comunali e poi abbiamo delle ditte private che appunto hanno questi mezzi che tra l'altro hanno anche lo scorso anno permesso di liberare le strade e quindi permettere la viabilità. Logicamente quest'anno abbiamo voluto prevenire ulteriormente, come dicevo prima, questa perturbazione quindi abbiamo soprattutto rinforzato i mezzi per quanto riguarda lo spargimento del sale perché anche il gelo, le ghiacciate vanno combattute. Non solo la neve va tolta ma va prevenuto anche l'eventuale ghiaccio.